Ciao, io mi chiamo Siria Soddu e sono nata il 31 luglio del 1996. Ho già sempre vissuto in Liguria, in un piccolo paesino dell'entroterra savonese. Di fatti ho origini liguri da parte di mamma e sarde da parte di papà. Ho appoggi a Torino, Milano, Savona, Cagliari e Roma, dove ho il domicilio e dove vivo da qualche anno. Ho scoperto il mondo della recitazione all'età di 13 anni, sul mio primo set, del film Brokers, Eroi per Gioco, regia di Emiliano Cribari, con un ruolo da coprotagonista. Dopodiché dal leoncino testardo, voglio fare le cose sempre da sola, quindi ho iniziato un po' più tardi a formarmi, quando ero un po' più grande e consapevole, presso il CTA di Milano, diversi corsi e laboratori. Dopodiché, dopo il Covid, mi sono trasferita a Roma e ho frequentato l'Accademia Teatro Azione e poi la Jenny Tamburi, per specializzarmi di più in recitazione cinematografica. Tra i miei maestri più grandi ho avuto Paolo Zuccari, Elodie Treccani, Andrea Trapani, per il teatro. Poi, grazie alla Jenny Tamburi, ho avuto l'onore di conoscere diversi attori, casting director, acting coach e registi. Un tratto di me che mi distingue è la curiosità. La curiosità porta alla sapienza, porta a conoscere il mondo, ma anche se stessi, ciò che ci piace. A me piacciono tante cose. Mi piace viaggiare e quando posso lo faccio. Mi piace stare in natura, di fatti pratico trekking e arrampicata. Ho sempre praticato diversi sport, dalla ginnastica artistica, ritmica, pallavolo, danza e anche calcio. Sì, pratico anche il disegno, è una cosa che mi piace fare per staccare proprio la testa e i pensieri. Tra le mie esperienze ho avuto diversi cortometraggi, spot, videoclip e serie web. Vi mostro le mie mani. I profili. E grazie.